Musica Musica Qui siamo in casa Honda con una Civic numero 287 e lui a guidare c'è Orlando Cengono navigato da Daniele Gaia Beh, Orlando una certa esperienza ce l'ha, no? Sì, un po' di esperienza ce l'ho non su questa macchina perché arrivo da un N2 quindi proviamo a fare una bella gara Ci proviamo, in baccalupo allora Ciao Quanto è cambiata la Civic? Sì 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 Allo? A porgo di questa Civic l'equipaggio numero 287 scendono dalla macchina, Orlando Cembaro e Daniele Gaia Orlando, eccoli qua Com'è andata? Molto tripulato Abbiamo giocato Abbiamo trovato una bocca in prova Non avevamo giocato Va bene Tanto adesso si motivano Eccoli qua Andiamo là davanti Cosa facciamo quella foto Io voglio fare un applauso Per le nostre damigelle Perché una cinquantina di volte Avanti e indietro l'avranno fatto Grazie, grazie per la vostra bellezza La vostra gentilezza Ho questi vestiti che sono molto belli Ma sicuramente sono spiegati Più uno scomodo devono essere Però sono molto belli Grazie ragazzi Un applauso, complimenti all'equipaggio 287 Arriva la piccolina di casa Fiat Una L piccolina di casa Fiat Perché poi ci sono anche le sorelline più piccole L'equipaggio numero 288 Fiat 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 Fiat